Bentornati sul canale giornalismo del cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Chi è al ballottaggio, tutte le sfide e le partite e gli ospiti di sabato 30 aprile, cosa è successo nella registrazione Ci sarà un solo eliminato nella settima puntata del serale di Amici 2022 Si è conclusa da poco la registrazione e non mancano le anticipazioni per sabato 30 aprile Il nome dell'eliminato non c'è, ma anche nel caso in cui dovesse saltare fuori nelle prossime ore sarebbe da non prenderlo in considerazione con certezza e sicurezza Già due volte, infatti, le anticipazioni si sono sbagliate e dunque sempre meglio essere pronti a tutti L'eliminazione di LDA per esempio ha spiazzato tutti, così come aveva spiazzato quella di Christian Per scoprire chi è a rischio eliminazione nella settima puntata bisogna scoprire le anticipazioni di Amici 2022 su tutte le partite di sabato Prima però l'ospite, ci sarà Gali. Il boccino della partita è finito nelle mani della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, sempre con il meccanismo della gara tra i giudici e della busta pescata Zerbicele hanno chiamato subito i cuccatodo. Queste le sfide Luigi contro Nunzio, punto a Luigi. Michele contro Sissi, punto Sissi Luigi contro Nunzio, punto a Luigi. Zerbicele hanno puntato su Nunzio insomma per portare a casa la vittoria. La squadra vincente ha fatto i nomi dei tre ragazzi da mandare al ballottaggio, Alex, Nunzio e Serena Nunzio è finito ancora il ballottaggio finale. Nella seconda partita Zerbi e Celentano hanno sfidato la squadra delle Pepe, ovvero Veronica Peparini e Anna Pettinelli Queste le sfide. Michele contro Dario, guanto di sfida, punto a Michele Luigi contro Albe, punto ad Albe. Luigi contro Albe, guanto di sfida, punto a Luigi Zerbicele hanno vinto anche la seconda partita. Albe è finito al ballottaggio finale Per la terza e ultima partita, Rudy e Alessandra hanno chiamato di nuovo Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro Non sono riusciti a fare il tris di vittorie, però. Luigi contro Alex, guanto di sfida, punto a Luigi Luigi contro Serena e Alex, punto a Serena e Alex. Michele contro Sissi, la prima sfida è stata annullata, poi di nuovo una sfida tra loro e punto a Sissi Luigi è finito al ballottaggio con Albe e Nunzio. I giudici però hanno salvato subito l'allievo di Zerbi, quindi l'eliminato sarà Nunzio o Albe, sono loro due al ballottaggio finale Il verdetto arriverà sabato in casetta. Il guanto di sfida tra professori è stato vinto di nuovo da Zerbi e Celentano Il pubblico team nella settima puntata del serale di Amici 2022 ha scelto come preferito Luigi Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao